A quasi un anno dalla nostra grande vittoria dello Scudetto 2019 siamo qui con Alessandro Vega e io gli voglio chiedere qual è il tuo ricordo più bello della vittoria dell'anno scorso? Il ricordo più bello è stata la domenica di Genova, che è stata una domenica pazzesca con la gioia finale. Genova, Genova senz'altro, la trasferta di Genova. La semifinale vinta al park al doppio dispareggio con due match point contro, è quello un momento indimenticabile sicuramente. Il ricordo più intenso non può che essere, banalmente non può che essere il doppio dispareggio al park Genova. Il doppio finale di Genova, quello dispareggio che sicuramente è stato il più emozionante e poche volte in vita mia, anzi mai, ho provato un'emozione così forte. E tutta quella gioia, la gente. Il più bello è stato il doppio proprio su questo campo, giocato insieme a Bobby, che contro Genova l'andata, vittoria al time del terzo, terzo set, proprio isperata. Per me è stata l'emozione unica. Il mio ricordo più bello è il doppio, quello contro pronostico, direi leggermente contro pronostico Magher Arnaboldi, io e il grande D'Addone. Non ci credeva nessuno. E il mio miglior souvenir, penso che sia la domifinale contro Genova, che giova a due punti e che finiva la nuova. A Genova, quando in un clima irreale, che un casino assurdo facevano, eravamo sotto 9-7 nel doppio dispareggio, ma siamo riusciti a riguardarla. Tutti noi sappiamo come è andata a finire. Penso al campionato dell'anno scorso, sicuramente mi viene in mente il momento appena dopo il match point contro Messina in finale. Perché, insomma, quel momento ho coronato un sogno, un progetto partito diversi anni fa, quindi mi ricordo come se fosse adesso la felicità di tutti, la mia felicità interiore. E ritrovarmi in campo tutti abbracciati per festeggiare quel momento sicuramente è il primo ricordo e è il più bello che mi viene in mente. Siamo una squadra di amici, quindi far parte di una squadra dove c'è tutta questa sintonia non è facile e difficile, quindi per me vuol dire tanto. Non vuol dire far parte di una, tra virgolette, famiglia, quindi bellissimo e ogni anno sono veramente molto contento di poter giocare a squadre e soprattutto di farlo con Selva Alta. C'è un super equipe, l'entendiamo tutti bene, quindi giocare per Selva Alta è un po' come una famiglia. Sono orgoglioso di far parte di un gruppo che è prima di tutto fuori dal campo, siamo un gruppo di amici e questo lo si vede in campo a differenza di tante squadre. È stato un piacere giocare la Liga italiana con voi. Far parte della squadra di regione è un po' speciale, diciamo, ecco, speciale. Sempre Forza Selva, a presto.